Termina in parità il derby tra Brindisi e Altamura con le due formazioni che si affrontano a viso aperto in una gara complessivamente equilibrata che alla fine però scontenta entrambe le squadre. Al terzo minuto ci prova subito Croce di testa con la sfera che termina alta sulla traversa. Il Brindisi col passare dei minuti prende in mano le redini del gioco ma fatica a trovare spazi e prova solo dei tiri dalla distanza che non impensieriscono. Il numero uno avversario al trentaduesimo in misca sugli sviluppi di un calcio di punizione è Gorzeleschi a trovare la deviazione vincente che sblocca il risultato. Il Brindisi potrebbe anche raddoppiare al quarantesimo con un tiro dalla distanza di Fellica che termina di pochissimo sul fondo. Nel finale di tempo però c'è la reazione dell'Altamura al quarantaquattresimo in diagonale da posizione defilata di Sepe deviato da Bismarra in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner mischia sotto misura si salva la difesa Brindisina. Nel secondo tempo più Altamura che Brindisi al terzo minuto calcio d'angolo deviazione di Croce e sfera sul fondo. Al settimo il pareggio Altamurano azione prolungata e Sepe a trovare il diagonale vincente che vale il pareggio. Il Brindisi reagisce al diciannovesimo scambio sotto misura tentativo di Danna che devia la sfera parata però da Guido. Al ventiseiesimo ancora un'azione in area di rigore questa volta Brindisina deviazione sotto misura di Serra e di Smara attento alla deviazione. Al quarantunesimo ripartenza per il Brindisi diagonale di Dammacco che termina sul fondo. In pieno recupero poi occasionissima per l'Altamura Molinaro recupera a palla a Malaccari. Il suo tentativo però termina di poco sul fondo. Il risultato non cambia. Rogazzo conquista il suo primo punto sulla panchina altamurana. Il Brindisi interrompe a due la serie di vittorie consecutive.